Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Nokia BH112 e in questo caso il mela telefono. Vediamo quindi di procedere al pairing tra il BH112 e un qualunque telefono Bluetooth. Come vedete noi abbiamo già aperto il Bluetooth del nostro telefono, possiamo procedere quindi ad abbinare selezionando, facendo ovviamente una ricerca tra i dispositivi nelle vicinanze e andando poi a selezionare ovviamente il Nokia BH112. Per accenderlo dovete premere essenzialmente questo pulsantino qui, lo tenete appunto premuto a lungo, come vedete quindi si entra facilmente nella modalità di pairing senza grossomodo avere altri ostacoli. Nel mentre potete comunque mantenere in elenco tutto ciò che avevate già connesso, nello specifico per esempio ci sono dei Jabra o degli altri prodotti Apple oppure Logitech, tuttavia come vedete il processo di collegamento è davvero molto facile e veloce. In questo modo quindi il vostro dispositivo, nello specifico BH112 è connesso, potete quindi iniziare a fare telefonate, rispondere alle vostre telefonate e quant'altro. La demo termina così, non c'è altro da mostrare in merito alla connessione appunto tra un cellulare e questo auricolare Nokia, pertanto io vi ringrazio dell'attenzione, ho concluso, vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornate su tutto quando andiamo a pubblicare per voi. Ho redotto, un saluto, ci si vede online presto da Giuseppe Ragozzino.